assolutamente non so niente ragazzi qua non c'è reversibilità da condividere niente niente basta basta perfetto ok grazie 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 bene allora abbiamo ancora tanti uomini ma diamole uno a una donna la numero 21 ragazzi numero 21 chi è questa donna? chi è la 21? tu tu ragazzi chi è la numero 21? 21 donne guardatevi il numero donne è arrivato l'arrotino lo sei tu? va a vedere è lei ma guarda che discorso vado a vedere nel fatto come di teni? ehi che bel nome te la conosci? da dove vieni? la strada la stradella cosa fai nella vita?